Musica Arriva sempre in forze team, il nostro Giorgio ci regala la motivazione del premio appena conquistato I giurati hanno individuato una squadra che ha preso in carico il futuro digitale del paese Ha curato con successo uno storico accordo con Google per le attività commerciali congiunte Bene, io direi che per festeggiare uno di voi a scelta può intonarci la canzone Questa è team di Mina che sicuramente saprete, almeno il primo verso, la prima strofa Assolutamente Che recita la canzone di Mina Questa è solo una parte di team, non tutta E anche una sola parte dell'ufficio legale di team, è un premio che vale per tutti Mina non cantava Lo so che non canta così Però ha fatto un remix Ma noi legali non sappiamo recitare a soggetto Questa è la storia di un'idea La storia di un'idea che poi diventa da un'idea una grande realtà e anche un premio molto prestigioso Grazie Grazie a tutti Grazie a voi Io lascerei qualcosa anche agli altri Ora per non farvi anche, come dire, parlare alle spalle Si scherza naturalmente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti